Infatti prendiamo atto di questa decisione con cui due giorni fa l'Assemblea dei Soci di Ambiente ha di fatto appoggiato e sposato tutte le sollecitazioni e le indicazioni che da settimane ormai il Movimento 5 Stelle stava sollevando su quello che inizialmente era un project che avrebbe in realtà fatto soltanto gli interessi del privato. Quindi con questa attività anche di condivisione che abbiamo fatto nelle scorse settimane con tutti i sindaci soci siamo riusciti a ricollocare questo progetto più vicino agli interessi pubblici piuttosto che a quelli del privato come inizialmente sarebbe stato. L'obiettivo era quello alla fine di far sì che ci fosse un impatto minore sull'utilizzatore finale ovvero il cittadino? Assolutamente sì, infatti le due questioni principali rispetto alle tante sollevate che abbiamo denunciato più volte erano appunto il fatto di inserire anche nel piano economico i 15 milioni di mutuo con la BEI che il Comune di Pescara in realtà aveva già sottoscritto e che inizialmente invece sarebbero rimaste come un debito a parte a carico dei cittadini e anche il tema degli incentivi statali che inizialmente nella prima stesura del project sarebbero andati senza colpo ferire interamente al privato e invece così verranno appunto ricalcolati all'interno del PEF per abbattere sensibilmente anche le tariffe di conferimento. Non c'è stato un voto unanime da parte del Collegio dei Sindaci? No, comunque questa approvazione è avvenuta con il solo voto favorevole dei Comuni di Pianella e del Comune di Pescara e questo in realtà fa un po' sorridere perché fino a pochi minuti prima di entrare nell'assemblea dei soci lo stesso sindaco Carlo Masci ci attaccava dicendo che comunque il Movimento 5 Stelle su questo tema stava soltanto facendo demagogia e stava soltanto abbaiando la luna salvo poi qualche minuto dopo entrare in assemblea e votare per l'approvazione di queste modifiche che proprio il Movimento 5 Stelle aveva chiesto. Invece comprendiamo comunque il voto negativo da parte degli altri sindaci soprattutto è un voto nei confronti del modus operandi di ambiente SPA che chiaramente è stato molto confusionario su questo tema. Sono sindaci che comunque si sono visti recapitare queste modifiche soltanto sul tavolo dell'assemblea stessa quindi senza poterle concordare, condividere e anche metabolizzare. Per cui chiaramente è un voto contrario anche nei confronti di come la vicenda è stata gestita da chi doveva garantirne la massima trasparenza.